Buongiorno, buongiorno! Che fate di bello! Io mi sto facendo una passeggiata, l'aria aperta e niente, adesso dovrò tornare a casa, sentire il meccanico, capire cosa è la mia macchina, appunto dato che mi avete chiesto cosa è successo ieri, non lo so. Oggi capirò perché me l'hanno portata via con carattrezzi soccorso stradale e ho fatto anche una cavolata, perché io nell'assicurazione avevo il soccorso stradale incluso dentro l'assicurazione, però non ho chiamato quello dell'assicurazione, quindi adesso devo anche un attimo capire come si può risolvere questa cosa. Poi ho una visita medica e poi devo sistemare un bel po' di base in casa. E basta, voi che fate di bello?